Buongiorno a tutti, è finito da poco l'incontro con Matteo Salvini qui alla Camera dei Deputati e come sapete ieri sera si sono create le condizioni per cominciare a lavorare ad un governo del cambiamento Movimento 5 Stelle Lega. Io sono molto orgoglioso del fatto che siamo arrivati fin qui mantenendo la nostra linearità, la nostra coerenza e portando avanti appunto in maniera lineare la nostra linea politica. Questo è un grande obiettivo che abbiamo raggiunto, però adesso passiamo il prima possibile a dare un governo all'Italia. Stamattina alle 9 ho incontrato Matteo Salvini qui e abbiamo e convenivamo tutti e due sul fatto che si debba iniziare a parlare di temi. I temi e le soluzioni ai problemi degli italiani che aspettiamo da 30 anni e quindi già oggi pomeriggio si riunirà un tavolo con politici e tecnici, parlamentari e tecnici da una parte, parlamentari e tecnici da un'altra parte del Movimento 5 Stelle e della Lega per cominciare finalmente a scrivere il contratto di governo. Perché il nostro obiettivo è quello, portare a casa un contratto di governo che possa migliorare la qualità della vita degli italiani. Io credo che siano stati fatti dei passi avanti significativi con Matteo Salvini stamattina e avremo modo nelle prossime ore di metterci subito al lavoro. Il tempo non è tantissimo, dobbiamo fare un lavoro fatto bene, dobbiamo ottenere dei risultati come governo per i cittadini che siano significativi, molti li aspettiamo da tanto tempo e non posso nascondere la gioia e la contentezza del fatto che finalmente possiamo iniziare ad occuparci dei problemi dell'Italia. Sono passati diversi giorni ma la cosa più importante è che adesso siamo al lavoro. Da oggi pomeriggio, da dopo pranzo, seguiteci, state con noi perché sono dei momenti veramente importanti non per il Movimento ma per la Repubblica italiana. Ciao!